Allora, vediamo Qua devo ammazzare Bohar Ok My father Red circuit board Ok Qua vabbè Musanti Mose, ok Perfetto Let's go, schiappure buio Allora, come prima cosa voglio fare Questo qua degli 80 mutanti Perché tanto devo fare i board Cazzate varie Qualche c'ho da fare Gente con le pistole Vabbè, nevole, devo bere una cosa di vodka Quindi a questo punto ne approfitto Bevo questo Oh, qua ci sono ghoul Però mi sa che appunto Già rippati Quindi ci mettiamo a sfondare loro Andiamo a fare i board Nevermind E' sponato un coso di ghoul qui Road sucker Ghoul fa Veramente strano Chiamarli ghoul Andiamo a ammazzare i treni Non rompere i coglioni Ah, godo coglioni Tutti miei E si vola Dai, cinghiala Ora, l'audio spero sia giusto L'ho alzato un pelino Perché forse sembrava troppo basso Perché c'è Nessuno lo sa A parte me Ma Io ho eliminato 120 giga di video Perché Non me ne piaceva Nemmeno uno E Più che altro C'era sempre problemi L'audio troppo forte L'audio troppo basso Io troppo in rave E niente Speriamo questo sia Cioè, se lo vedete Significa che Tecnicamente Mi è piaciuto tutto Non mi è dispiaciuto il video Non mi è dispiaciuto quello che ho fatto Perché sinceramente Non so mai Che stragrancazzo fare Dato che Alla fine non è Come Tarkov No Che prima i miei video di Tarkov Sostanzialmente erano Mi mettevo a fare Una Una partita con il PMC In caso Morivo Troppo presto Mi mettevo a fare una partita Come Scav Stavo lì E le mie cose Chiaccheravo Cazzate varie E invece qua Mi resta tutto più Non so che cosa fare Sostanzialmente Non so che stragrancazzo fare Quindi Se vi piacciono questi video Dove sostanzialmente Faccio le mie daily Cazzate Riesco a prenderti Le mie cazzate varie Eccetera Sono contento Anche perché dopo Probabilmente ci dobbiamo mettere A fare Un po' di autopilot Sopro facciamo un po' tutto Un badotto E' uscita la nuova season Io ho fatto la cazzata Di Anna certa Poi shopparla tutto Ho comprato gli ultimi Livelli Quindi sostanzialmente Ho shoppato 390 livelli Non vi dico Quanti soldi sono Ma Dalle vendite La roba di CS Ti cazzi Porta una segra Ma fa un culo La roba di CS Tanto Gioco Morto Per me E quindi niente Anche se per tante cose Sti qua della expo Non si meritano proprio i soldi Che hanno ridotto tutto quello che si prende dal battle pass Ne vieno ridotto anche le cose dalle casse La gente si è lamentata La gente si è lamentata e hanno un pelino ma un pelino ascoltata e hanno fatto una piccola modifica Però tra cheater matchmaking stupidi server che lagano ogni poco sono con il desync Mi sarà per bendare di brutto Ma non pensiamoci Allora Non so se vi interessa Ma attualmente sono con L'armina nuova Portata a più 10 Che non è per niente male La cosa buona è che le sue munizioni Penetranti base Fanno il 20% Che sarebbe la quantità di percentuale di quelle ancora più buone per 5.45 Invece sono quelle diciamo base armor penetrating Mentre quelle super buone per queste hanno il 30% Fa 48.7 per 7.50 Con il livello 15 dovrebbe arrivare a 53 E diventa una bella bestiolina Già shredda abbastanza bene Quindi ho lasciato il QBZ un attimo in panchina Anche se è al più 15 Però questa armina è grande Non so è carina Con le casse che ho aperto ho trovato solo tutti i pezzi per l'armatura nuova Quindi ho livellato quella a più 12 E mi avrei sperato di prendermi l'SA58 Visto che lo hanno rimesso Che l'arma strapotente Avrei voluto portare quella a più 12 Ma sono stronzo Quindi probabilmente mi porto questa a più 15 Questa nuova E poi vedremo Siamo a metà mutanti Vediamo di finirli tutti istantaneamente Ah per ultimo proprio il gigabombolo Non me qua Ah poi sono anche finiti i colpi per il pompa E ora c'è da ammazzare gli NPC Quindi tanto c'è Stta parte sicuramente ve la Ve la fa saltare Spacchettamentino Niente Nelle tre che sono loccate Non ho trovato nulla Allora questo è l'ultimo Quindi a sto punto E si fa vedere no Potrebbero aprirci il culo Ecco qua ci sono questi bagati Che sono tipo 8 Tutti insieme Però si finiscono eh Pezzo di merda Vieni di qua Deci stare Che paura Ecco che arrivano quelli Buggati E sgoschi C'è rimasto Solo lui lassù Ok E te E te Allora adesso Rift Close Te Guarda qua che bellezza Spada e spettava Qua ci mangiamo Un altro di questi Ma poi se put a caso Vi interessa Questa Nella build che sto usando ora Due spiral Un whirlwind E due bracelets Nel live Quindi non ho bisogno Di niente Che contrasti Roba Poi dovrò portare Un altro spiral Più 10 Quello più 15 L'ho comprato E mi è uscito A 129.12 Contro il 69 Di movement speed Mentre questo Al più 10 Mi è uscito Con il più Su movement speed È 340 330% Quindi è il massimo Questo per Nemmeno l'1% Non è al massimo Ora sinceramente Spero che mi esca O di nuovo In movement speed O in healing effectiveness Così c'ho Un 20% circa Di healing effectiveness Se dà il 10% Appena esce Che non sarebbe Per niente male Anche perché Inizio l'avevo pensata Con 3 spiral Viola Proprio per Magari avere In tutte e tre Un 10% Di healing effectiveness Almeno si arriva bene Forse anche Al 50 60% Con quello che Si mangia E si beve Comunque sono Con Un'armatura che toglie 5 di movement speed Bella pesante Non è più 15 Però Tiene bullet Trezzi 316 Quindi ho 422 HP Arriva Un 24 30% Di healing Effectiveness Quando bevo le ose Non è male Ti manco 119 E poi se mi metto Anche la plate Nera Comunque sono Piuttosto Veloce Poi mi dovrò Sistemare La build PvP Perché c'ho ancora Troppa roba bianca Comunque mi dispiace Se in questo mese Non ho caricato Ma davvero Come ho detto prima Cioè ho eliminato 120 giga Di video Non mi piacevano E Chissà Magari ci vorrà un mese Anche nel prossimo video Per lo stesso motivo Quello lo scopriremo Soltanto vivendo Allora questo è abbastanza Veloce Fortunatamente Anche se ogni tanto Non spawnano Perché magari L'ha già fatta qualcuno 3 così a bomba E 3 ripperoni Oh ecco l'ultimo Let's go Tocca portarglielo Allora Secret board a lui Ora c'ho gli outpost Però dovrei avere Anche due signal Gli outpost dopo Perché tanto Mi da pure Quell'altra Outpost Poi vendiamo Tutte le cose Allora vediamo Se riusciamo A beccarli qua Da qualche parte Uno c'è nel bordello Più totale Tac Sono anche un buon punto Per prendermi Il buriat Zio Vera Mi mancano Tipo 10 dei beta E poi c'ho Tutti i 125 Alpha Però diciamo Farli con la speed build E' un piacere In questa maniera Avevo Cioè come sono buildato adesso Con l'altro Case pvp C'avevo 80% Di speed C'ho il Arrivato al 49% In più Rispetto a prima Ne viene Bella colonsa Vabbè Vediamo se becchiamo L'altro L'altro segnale Ecco l'ultimo Gaga Easy Ora c'è da prendere il cargo Allora Dammi sta roba Azzo Questo mi da 7 Ma dovrei avere Quello da Più Chili Eccolo qua 8 e 1 Ok E con questo Ok Siero di 9 chili Porca merda Ci sono quasi A posto Ora si può riprendere a correre Li possiamo portare No questo O glielo portiamo O dopo O glielo porto Ora Hmm Forse ora che sono Tutti impegnati Con Con il coso Tutti impegnati Con l'avamposto Ora fammi però Attivare questo Così vedi Secondi Almeno nel frattempo Me ne approfitto Faccio queste E piazzo Le trappole Allora Spero non mi rincorrano Qua i cosi I gul Perché non ho voglia Che i bloodsucker Mi ciucci No Allora Sì Oh c'è un playerone Vai a casa Già ero a prendermi Le cose Ero tranquillo A prendermi Le mie Le mie cash Le 3 per le 30 Settimanali Eh mi dispi No non è vero Mi dispi Avango Mi basta di non trovare Nessun cacacazzo Poi mentre torno indietro Perché non devo morire Con quello che prenderò Ora Con il device Però ecco che arriva Qui c'è un player Puntuale Lo si insegue Si accorgerà di me Lo si insegue Lo si insegue Lo si insegue Ok adesso Me ne torno indietro Così completo qua Nel search area Che non riesco a Montellare Ovvia Chi c'è Ok adesso Allora Dalla parte dove ho pingato Ce n'era solo uno Assurdo Non ne spawnano più Però ora ci sono Sono qua E la cosa che mi fa morire È che Cioè Avevano fixato il fatto Che spawnavano dentro Cioè non ne avevo più Visti che spawnavano dentro Ai Ai truck E adesso Si rispawnano di nuovo Top Perfetto Ora che c'ho Territy war Quindi devo fare 3 outpost Tanto qui hanno finito Quindi a sto punto Meglio portare Tutta la roba E In caso ritorno E ce n'è qualcuno Si fa Allora Allora Si danno questi A lui Si da Questo E Questo Perfetto Però che cosa ci manca Qui I raid soldier Devo fare Gli outpost Quindi Quindi me ne basta Uno E faccio Tre missioni E 15 Raid soldier Che si fanno E poi 3 outpost Così ho finito Due settimanali Questa tanto ci vorrà Tempo Poi mi mancano 9 cash Meno di 60 58 Qui NPC O mutanti E si vuole Poi quello dei soldi Ci penseremo Un'altra volta Ma Adesso andiamo A fare L'outpost E secondo me Se viene pure fuori Un bel outpost Un bel fight Si può concludere il video Allora Nel mentre Aspetto Che Powni un outpost Faccio 15 Raid soldier Poi nel mentre Stavo venendo In qua Cioè in qua Mentre da mine Stavo andando Nel senso Ora e ora Ci faccio a spiegarlo Praticamente dopo Appena entrata A mine Poco più avanti C'era Uno stronzo Che voleva fare I delivery Di un backpack E quindi niente Quanti me ne mancano 3 Eccole qua C'è un terzo Un nemico Allora Ho visto che L'hanno ripulito Lì Da Dal boss Allora Oh Roba abbastanza Golosa Oddio 24 punti Vabbè Basta che non mi butti Non l'ho già inetto O basta che lo prendiamo Easy easy Anche se non credo Sarà così Ma vedremo Mi prendo La vodchina Oh È un nemico Uno stronzo Che cazzo ci fa Da questa parte Dove vuoi andare Zio No Ho sbagliato Totalmente Allora Non ho Ah sì Un caricatore Solo mi è rimasto Circa Ma faccio Cazzo Di quanta gente Che c'è Dei nostri Ma c'è Un cecchinazzo Lì Sì Si mettono sempre Tutti là Sti stronzi Oh Oh ciao Giggidi Giggidi Oh dammi Dammi qualche colpo Va Un po' di cura Dammi questo Oh Va di venire i colpi Ok 39 colpi Va bene Va bene Bella raga Non ho granite Non ho granite Vabbè Non si è messo Anche a stonare la cosa Oh Ave l'ha visto Il bro Oh Oddio Sono in due No Vieni Affacciati Stronzo Ce la farò Quanto c'ho qui 31 Ma ha provato a cecchinarmi Quello che è ancora lassù Niente Ho fatto la cazzata Di saltare Comunque c'è 14 Al plate Di danno Lui 15 In testa Cubizzata Più 12 Comunque fa quasi Quanto il mio Non male Vabbè L'abbiamo preso Giusto L'abbiamo preso E le ho fatte tutte Pure quella De causarlo col 6% Let's go Quindi ora Si fa una bella Raccoltina Di cose Quanto mi ha dato Va bene Un po' di cose Vediamo Tiè Vediamo anche Quanti soldi Con queste Daily 68k Va bene Va bene Si vende tutto Alla velocità Della luce Oddio Ci facciamo un upgrade Pazzo Prima di Di chiudere Eh Due click Più 11 Eh Più 12 Oh Ma bene Va bene Ma che siamo Grulli Oh Ma che cazzo Di video Esce Oggi Sono contento Oggi Sono contento Dai oh Signori Per questo video È tutto Spero vi sia piaciuto Ora Appena Chiudo Mi vado a recuperare Il mio zanetto Con la robina E quindi Niente Dai Se vi è piaciuto Lasciate un bel pollicione Se non l'avete fatto ancora Iscrivetevi Ricordatevi che in descrizione C'è il discord italiano Di Stalcraft Se volete qualcuno Con cui giocare Quindi niente Signori Dai Ci si vede al prossimo video Spero Non tra un mese Ciao ciao Scherzavo Ho finito Tutte le daily E le quickly Siamo durante un'emissione Quindi Si abbassa l'audio Se non ci potrebbe sfondare E abbiamo 17 casse Da aprire Quindi Vediamo Che l'emissione Ci porti fortuna Che l'emissione Ah ahhh